Terra e Clima si arricchisce di un'altra importante conferenza sabato prossimo alle 17.30 presso la sala di rappresentanza della Fondazione. Non è una conferenza come le altre intanto perché ci sono dei relatori che sono molto giovani, degli influencer e penso che questa conferenza segni un cambio di passo anche di questo ciclo di conferenze di Terra e Clima che ormai la Fondazione organizza da oltre un anno. Un cambio di passo perché diamo la parola ai giovani, a giovani influencer molto impegnati nell'ambito del cambiamento climatico e ci aspettiamo molto da questa conferenza perché cambia il paradigma. Viviamo le transizioni che oggi abbiamo nella nostra realtà con molta ansia, con molta preoccupazione e siamo consci che ogni transizione ha un costo ma l'ottica di questi giovani molto impegnati, influencer in questo ambito cercano di spostare questo paradigma. Cambiare non va vissuto in termini passivi, in termini negativi, come sacrificio, ma vanno sottolineate, quindi ecco è importante anche la comunicazione di questi ragazzi, vanno sottolineate le opportunità. Il cambiamento va visto anche come grande opportunità. Il genere umano si muove quando ha una convenienza. La convenienza è certamente quella di avere una terra, un contesto migliore nel quale vivere, nel quale ospitare i nostri figli, i nostri nipoti e le generazioni che verranno. Quindi invito tutti a partecipare a questa conferenza di sabato perché è una conferenza che sicuramente aprirà molti file nella nostra testa e ci farà vedere le cose anche in modo diverso.